Spesso accade che ciò che è provvisorio diventi definitivo. Una dimostrazione l'abbiamo qui lungo la Fondovalle Sinello. Questo è un ponte di raccordo tra due strade provinciali, per l'appunto la 154, che è questa che vedete nelle immagini realizzate dal collega Nicola Cinquina, Fondovalle Sinello, e a Monte la strada 157 San Lorenzo, quindi siamo in una località a ovest di Vasto. Questo ponte è praticamente parzialmente chiuso da circa 20 anni, cioè da quando ci fu un alluvione che ne minò la staticità, non è mai stato aggiustato. Andiamo a vedere. E questo dunque è il restringimento di carreggiata. Quei birilli e quei New Jersey che vedete sono lì ormai da 20 anni. Da una quindicina d'anni c'è questo semaforo provvisorio che, come abbiamo detto, è diventato ormai definitivo. C'è il senso unico alternato, ma nessuno si è preoccupato di verificare la staticità del ponte e se è stato fatto in passato nessuno è ancora intervenuto. Si tratta di uno dei 400 ponti lungo i 1600 chilometri di strade della provincia di Chieti. Qui vedete quello che è il cartello relativo al cantiere riguardante alcuni lavori qui in fondo, proprio sull'area golenale del fiume Sinello. Siamo nella zona di Gissi, tra Gissi e Pollutri. Un intervento da 200 mila euro per consolidare le sponde del fiume. Il successivo intervento dovrà riguardare dopo 20 anni questo ponte che vi abbiamo fatto vedere, proprio perché non diventi definitivo ciò che avrebbe dovuto essere provvisorio. Grazie a tutti.